Bici elettriche a terra, colonnine elettriche divelte. Ad Ascea è stato risolto il giallo grazie alle telecamere di sorveglianza installate dal comune. L'episodio nella notte di venerdì scorso. Un'auto in sosta senza freno a mano nel parcheggio della stazione prende velocità e finisce la sua corsa contro le bici elettriche posizionate nel piazzale dello scalo ferroviario. Ingenti danni e velocipedi affidati quest'estate dal parco al comune per favorire la mobilità sostenibile e da due colonnine di ricarica. Soltanto la mattina successiva ci si è accorti di quanto accaduto. Il proprietario dell'auto si era allontanato ma grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile individuarlo. L'automobilista, un sessantenne di Ascea, nella mattinata seguente si è presentato sul posto per spiegare quanto accaduto. Il servizio è gestito dai ragazzi della Proloco. Dal giorno dell'inaugurazione non sono mancati gli atti di vandalismo. Nelle scorse settimane infatti è stato scuoiato il sellino ad una delle biciclette. Grazie ai filmati delle telecamere è stato possibile ricostruire l'accaduto ma il colpevole in quel caso non è stato identificato. I video hanno infatti mostrato un uomo incappucciato che nel cuore della notte si è avvicinato ad una delle bici smontando il sellino e poi allontanandosi. Sapendo della presenza delle telecamere ha pensato bene di coprirsi il volto. Un atto di inciviltà risolto comunque grazie all'utilizzo delle telecamere che rappresentano un deterrente per tutti i malintenzionati.